e prenditi una pausa dallo stress quotidiano e immergiti nell'incanto dell'isola di Panarea presso l'esclusivo hotel Liska Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle isole olie, questo gioiello di charme ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea incorniciata da splendide terrazze solarium. Dove potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale internazionale. Esplora l'arcipelago delle isole olie con le nostre escursioni in barca. O rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel Liska Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza. Scegli l'hotel Liska Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea. Prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liskabianca.it o chiama il numero più trentanove zero novanta novantotto trenta zero quattro. Hotel Liska Bianca dove i sogni diventano realtà. Prendi il tuo tempo. Ascolta. Ascolta. Radio Zimari Web. Da Panarea. Da Panarea. Da Panarea fino a Latino America. Su Radio Zimari. Nadia Solange. Buon pomeriggio. Eccoci qua ben arrivati su Radio Zimari Web. Da Panarea. Da Panarea fino a Latinoamerica farvi compagnia, la voce Nadio Solange e insieme a me le tante notizie del notiziario delle isole Eolier. E anche in questo martedì 20 agosto, giornata l'insegna della pioggia su tutte le isole Eolier. E allora se stiamo a casa ci facciamo compagnia con tardi di musica, salutiamo voi che siete all'ascolto, la nostra isola di Panarea e partiamo con la musica, primo brano scelto per voi Sione Lenox, Wisin, ora. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Notizi a tutti. Grazie 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 a tutti. Pauroso il peso dei rifiuti di plastica accumulati ovunque nel mare, che in Italia si stima in 1,178 milioni di tonnellate l'anno. Governo assente. Cassazione, sentenze e ordinanza di interesse pubblico, bonifici, bonifici, truffa con sim falsa, banca e team condannate insolito dal Tribunale di Milano. I fatti avvenuti durante le vacanze di fine anno 2020 con danni per 163 mila euro. La responsabilità per la sicurezza dell'home banking è di tipo oggettivo. La banca può liberarsene solo provando che le operazioni contestate dal cliente sono dovute al suo specifico dolo e colpa grave. Così il Tribunale di Milano condanna insolito la banca e l'operatore telefonico team per non aver bloccato una serie di bonifici truffa per circa 163 mila euro subiti da due aziende milanesi durante le vacanze di fine anno del 2020. E sta lentamente tornando alla normalità la situazione della frazione Pontenaso, comune della provincia di Messina, dopo la furia della pioggia che nelle notte tra domenica e ieri lunedì ha portato tanta paura ma soprattutto danni. Nella zona del comune una colata di acqua e fango è venuta giù dalla montagna travolgendo tutto ciò che si incontrava sulla propria strada. Anche se potevamo aspettarci molta pioggia dopo parecchi mesi di siccità, ha commentato a 48 ore dopo l'alluvione il sindaco di Naso Gaetano Nani, non era immaginabile un evento straordinario come questo. In due ore sono caduti oltre 100 mm di acqua, stiamo parlando di un terzo di quella che abbiamo avuto da gennaio ad oggi. Comunque la macchina comunale per l'emergenza ha funzionato bene, siamo riusciti a dare subito un aiuto alla popolazione con l'intervento della protezione civile, dei vigili del fuoco urbani e dei volontari. Arrestato dai carabinieri a Gioio Samarea ha 33 anni ed è accusato di violenza sessuale e violazione di domicilio. L'arresto compiuto in flaganza di reato, il 33enne ha breve aggredito una ragazza per strada mentre la giovane tornava verso la propria abitazione. La breve seguita fino all'area condominiale, la breve abbracciata dopo averla ammolestata con le parole. Mentre la ragazza cercava di fuggire è arrivato il padre ed è cominciata una collutazione con l'aggressore che poi gli è fuggito. L'indagato è stato fermato vicino al condominio dai carabinieri che erano stati avvertiti dalla ragazza. Il Gioio ha convalidato l'arresto e l'indagato è ai domiciliari. Sono riusciti ad aprire un barco nello scafo della Baixian, i sommo satori dei vigili del fuoco della Capitaneria di Porto. Un'attività non semplice a 50 metri di profondità. Attraverso questo barco i sub dovrebbero riuscire a entrare all'interno dell'imbarcazione dove si ritiene siano rimasti intrappolati i corpi delle sei persone che risultano ancora disperse. Questa mattina si sono registrate colde sulla tangenziale di Messina tra gli svincoli di Centro e Gazzi in direzione Catania a causa di un incidente a scontrarsi due auto con un ferito trasportato in ospedale. Nei giorni scorsi a Vulcano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flaganza di reato un uomo di 28 anni residente a Roma in vacanza sull'isola ritenuto presunto responsabile di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei presi di una discoteca i militari dell'arma hanno sorpreso il giovane nell'atto di cedere a due turisti della marijuana. Il suo atteggiamento guardinio non è sfuggito all'attenzione dei carabinieri che dopo averlo identificato lo hanno sottoposto a perquisizione personale. La successiva perquisizione domiciliare stessa nell'appartamento in uso al 28enne ha permesso di trovare 15 grammi di marijuana già suddivisi in 5 dosi e custoditi all'interno di un pacchetto di sigarette ulteriore a 188 grammi esflussi di marijuana, 38 grammi di hashish, due bilancini di precisione vario materiale verosimilmente utilizzato per il confessionamento della droga e nonché la somma di 225 euro in contanti. I pescatori sono disperati, gli studiosi cercano soluzione. Nel frattempo l'interessato prolifera e adesso è presente in maniera massiccia anche all'interno dell'aria marina protetta. Parliamo del vermo cane conosciuto come verme di fuoco dalla colorazione sgargiante che si nutre principalmente di corali e piccoli crostaci quando le trova di carcase di pesce attaccando proprio le reti della marineria. A causa del vermo cane abbiamo perso in questi ultimi tempi il 30% del pescato afferma Rosario Milazzo per pescatore Mamertino che racconta l'impatto dell'aumento della presenza dei vermi cani che si sono moltiplicati a causa del caldo nelle cristalline acqua Mamertine. Basta che individua il pesce finito nelle reti ed entra in azione e così quando tiriamo le stesse dobbiamo gettare in acqua il prodotto danneggiato. Ed ecco noi a quest'ultima notizia che con le notizie del notiziario per oggi abbiamo finito. vi ricordo che li potete approfondire e ascoltare le videointerviste di Gennaro Leone andando su notiziario e ollie.it e su GDS.it e su notizia che con le notizia che con Nadia Solange e dopo il notiziario delle isole ollie torniamo ad ascoltare musica in questo pomeriggio insieme per voi Wisin e Chandel con Perreo 101. e a lei le gusta il reggaetto va a bailar nel sandiglia di noche e di nia le gusta il reggaetto non le baga il piquete never never, never, never ella è in un altro level la conosci in Miami cerreando in eleven io la postia debajo del palo come Chris Cuever andate con la bandilla lo guacana forever il 30 mil è la cartera che mette esmeralda rubia è in la pulsera vento lo bo se le pega e lei sta in la pichadera però conmigo sempre salvaje come con cera a lei le gusta il reggaetto va a bailar nel sandiglia di noche e di nia le gusta il reggaetto non le baga il piquete never a lei le gusta il reggaetto va a bailar nel sandiglia di noche e di nia le gusta il reggaetto non le baga il piquete non le baga il reggaetto lo pillo se activa 8-3 tequila tiene su puerta ready perché le monte pila se mette pa' la disco sin ID sin el cateo non paro col bote llevo e grita un asalto mano arriba ella sta escuchando lo que la hacen pegar ese culote le hace bullying a la tema e se pone a tuerquear e grita un asalto mano arriba ella sta escuchando lo que la hacen pegar ese culote le hace bullying a la tema e se pone a puerquear no le baja la disco la raja se basa en el gimnasio y ese culo no rebaja no se atrasco la amiga de la que la relaja baby tu eres mi royal flush y yo tengo las barajas dale como tu lo sabes hacer ataca matadora y empieza a romper no se cansa si prende las duras cero 80 fotos perriendo y las guarde en el 6 le gusta cortito su trague miles quieren pegarle el diente pero hay que conformarse con solo ver sus edades con la puerta engancha esta puesta pa' abajo yo siempre pa' al bandidade a mi me gusta su piquete tiene flow casi no usa maquillaje y ella le gusta el reggaetón pa' bailar la encendilla de noche y de día le gusta el reggaetón pa' bailar la encendilla de noche y de día no le baje el piquete de ver y ella le gusta el reggaetón pa' bailar la encendilla de noche y de día le gusta el reggaetón no le baje el piquete de ver Gra, gra, gra Doble Udi Andel Los Lideres Luguale che produce solo Higher quimico Directamente desde la base Whisky di Yantai Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miri se relaja E continuiamo ad ascoltare musica My Towers, La Vida Es una l'album e brano scelto per voi La la Y si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimmi te recogho A manejarme de hoy Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pinotinto Me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio Con la quinto Ellos cuando me ven de frente Quedan trinco Sola la hace Sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tu quieres mami Se le viran los ojos La miri se relampe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Te subo a la altura Tú dimmi te recogho Cuando algo está pa' ti Es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese Ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho Y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando Y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los paines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pido Siempre me pido Yo nunca me pido Y a ella le gusta Hasta la mano La mano se pido Mira más tu amor Estás en Tardes de Música Con Nadia Solange Chica e Mesa Sul Radio G Mary Web E brano che andiamo ad ascoltare Sin Voy de cero a mil Y ahora ¿Dónde estás? Me he quedado así Quiero más 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 Hasta cuando te tengo que esperar Me he cansado de jugar a este juego Dime si pretendes que vaya más No podemos aguantar No podemos aguantar No eso es todo Me he quedado así Ya no hay vuelta atrás Sigo estando aquí Y ahora tú no estás Me he quedado así Quiero más 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 No va a ser contigo No, 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 no Ooh ser Fuel Bring it up 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 e ancora gli ultimi brani rimasti in questo pomeriggio insieme e le tardi di musica, Lori Menor, deligrosa e le tardi rimasti in questo pomeriggio insieme e le tardi rimasti in questo pomeriggio insieme e arriviamo così al penultimo brano in scaletta di questo pomeriggio insieme vi ricordo che subito dopo vi aspetta su sacco nel suo sunset quindi rimanete collegati sulle nostre piattaforme basandolo su Spotify, Spreaker e Youtube Usuna Guai Grazie a tutti! 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione